Questa mostra perché in questo mese missionario vogliamo creare anche in questo santuario una presenza che ci ricordi che stiamo vivendo questo periodo, questo ottobre missionario straordinario. Ne ricordo appunto non solo del tema dell'evangelizzazione, ma anche e soprattutto della nostra missione nel Ciado Centrafrica dove operano i nostri confratelli e dove se vogliamo si prolunga anche l'opera di Padre Pio da Pietrelcina. Ormai tante scuole, tanti dispensari sono ormai edificati in nome di Padre Pio. Abbiamo la possibilità anche di mostrare che in quelle terre ci sono anche dei valori, degli oggetti, ci sono insomma tutto ciò che riguarda il progresso dell'uomo e anche la sua identità e la sua dignità. E allora è bene condividere e vivere questa fraternità universale in questo periodo per ricordarci appunto che il Vangelo deve essere annunziato a tutte le genti.